Allora, continua anche oggi il nostro corso su destra e sinistra pensate come categorie storiche e ormai obsolete. Abbiamo provato nelle due lezioni precedenti a inquadrare la conflittualità di questa coppia dicotomica, abbiamo provato a mostrare la poeticità per certi versi della contrapposizione tra destra e sinistra, due categorie scivolose che sfuggono a ogni presa concettuale o almeno sono molto difficili da afferrare per le ragioni già chiarite. Oggi vorrei provare invece a ragionare in prospettiva storica, o meglio in retrospettiva, meglio sarebbe dire storica, sulle funzioni principali che destra e sinistra hanno svolto per poter poi nelle lezioni successive soffermare invece l'attenzione sull'esaurimento, sull'evaporazione del clivage di destra e sinistra. Anzitutto diciamo subito che destra e sinistra sono categorie problematiche anche in ragione del fatto che all'interno di ciascuno dei due schieramenti si registrano differenze molteplici, si riscontrano diversità strutturali. Detto semplicemente non esiste un solo modo di stare a destra come non esiste un solo modo di stare a sinistra. All'interno di ciascuna delle due parti si danno molteplicità potenzialmente infinite, perché come ricordavamo nelle scorse lezioni se destra e sinistra fanno valere una spazialità relazionale in grazia della quale si è a destra nella misura in cui c'è qualcuno che sta alla nostra sinistra e viceversa si sta a sinistra nella misura in cui c'è qualcun altro che sta alla nostra destra, ebbene anche una volta che ci si sia collocati a sinistra o a destra ci si può poi trovare a essere a destra o a sinistra di altri che intervengono o che si spostano sullo scacchiere della politica. Quindi la prima notazione da fare è che destra e sinistra sono categorie in movimento in generale e anche in ciascuno dei due campi assistiamo a una pluralità potenzialmente caleidoscopica infinita di possibilità di abitare la destra come di abitare la sinistra. Ora nelle scorse elezioni abbiamo se ricordo bene insistito sul fatto che la fucina originaria della dicotomia di destra e sinistra deve essere ravvisato nella Francia, nella Francia rivoluzionaria quando effettivamente si sviluppa la dicotomia e soprattutto muove da una materialissima spazialità quella di chi si siede a destra e di chi si siede a sinistra assumendo posizioni più amiche del potere o meno amiche del potere ed è dunque ancora alla Francia che proveremo a rivolgere la nostra attenzione. Più interpreti hanno a mio giudizio giustamente sottolineato come sia la Francia il luogo specifico a cui guardare per comprendere l'avventura storica di destra e sinistra benché siano divenute poi concetti fondamentali per la politica nell'Europa tutta o addirittura in tutto l'Occidente sempre ricordando che si tratta di categorie storicamente e geograficamente determinate quindi parliamo sempre dell'Occidente e soprattutto dell'Europa nello spazio temporale della modernità ebbene la Francia rappresenta in qualche modo il locus revelazioni sprivilegiato per affrontare sia la genesi della dicotomia che è totogenere francese ma anche lo sviluppo niente affatto lineare del clivage di destra e sinistra.